Si può dire che il pensiero, il suggerimento di avere un McDonald's in città, il primo, sia stato vostro? Sì, assolutamente sì, non solo si può dire, ma lo è stato effettivamente, perché la mozione è firmata a cittadini in comune, quindi l'idea è stata sviluppata da noi e portata avanti da noi. È stato firmato di recente un protocollo d'intesa, adesso si attende il PEF dal costruttore Terramani, insomma l'iter sembra ben avviato per aver presto la nascita e l'arrivo del McDonald's a parcheggio San Francesco. Sì, speriamo che tutte le procedure si possano svolgere al più presto possibile, adesso c'è bisogno di fare un passaggio in consiglio comunale, ma credo che grossi problemi non ce ne siano per avviare il tutto. Ci sono contemporaneamente un po' di polemiche, tra chi gradisce questa nuova, questo new entry e chi no. Ma guardi, io credo che siano polemiche sterili, non credo che le due cose si sovrappongano, addirittura possono essere accostate o paragonate tra di loro. Stiamo parlando di due realtà diverse che chi preferisce il cibo moderno, il Burger King o il McDonald's lo frequenta. Chi invece è affozionato alla cucina terramana, alla nostra chitarra con le pallottine, alle nostre mazzarelle, sicuramente non si discosta o sicuramente non viene distratto dal McDonald's. Si creeranno comunque nuove posti di lavoro, si parla di un 50-60 nuove posti di lavoro, quindi altro aspetto importante per il territorio. Sì, questo è un aspetto molto importante, 50 posti di lavoro che per Teramo non sono pochi, è una bella risorsa. E poi vorrei aggiungere anche l'aspetto della riqualificazione del luogo, una piazza che forse ridaremo una parte di vita con l'arrivo del McDonald's, e quindi la restituiamo un attimino a quello che può essere la vita futura della città. Altri suggerimenti per l'amministrazione? Ma suggerimenti per l'amministrazione sicuramente, sì. Sulla stessa piazza insorgono, cioè esistono altre due nostre proposte che fossero state portate avanti in contemporanea con il McDonald's, sarebbe stato un grande successo. Però nulla toglie che in futuro magari si possano realizzare anche il centro logistico e il bussenavetta. E soprattutto la rivisitazione del termine al busse di Piazzale San Francesco, che è così come è stato presentato, è un attimino scollegato dalla città. E fa un attimino rivisto.